Inauguriamo un nuovo spazio insieme a Paoletta Minaccioni che è qui nei nostri studi. E' arrivata adesso. Buongiorno Paola. Ciao Paola. Buongiorno Paola, Paola, Paola. Allora, diciamo che hai capelli da pazzo, beata te. Alla quota rosa. Sì, e questa nuova rubrica si chiama Io come donna. Io come donna. Cerchiamo di sondare l'universo femminile attraverso Paola e i suoi punti di vista. E vediamo ciò che accade nel mondo. Allora, ti sottoponiamo a questa notizia freschissima arrivata adesso. Praticamente c'è uno scienziato italiano che si chiama Daniele Michilli, 34 anni, che è riuscito a captare dei segnali radio provenienti dalla nostra galassia. E sono i segnali radio più forti mai registrati fino adesso. I più forti mai registrati fino adesso. Da dove arrivano? Da una stella distante 30.000 anni luce, quindi relativamente vicina. E in provincia della Terra. Dalla stella neutroni magnetar. Questi segnali radio giungono fino a noi. Ecco Paola, tu come donna, come ti poni nei confronti di questa notizia? Allora, intanto grazie della domanda. Io come donna spero che questi segnali così forti in realtà stiano trasmettendo una canzone di Tiziano Ferro. Tiziano Ferro? Come Tiziano Ferro? Sì, è un grande artista, grande sensibilità. Sì, è un grande artista, grande sensibilità, grande sensibilità, grande sensibilità, grande sensibilità, grande sensibilità di Tiziano Ferro. Sì, questo è quello che penso io, come donna. Come donna. Però ecco, c'è anche un'altra notizia che i giornali oggi sottolineano in maniera molto forte. Anche questa è una notizia scientifica, c'è uno studio giapponese invece che rivela che le otto braccia del polpo... Questo animale così affascinante deve essere. Questo bellissimo cefalopode... Cefalopode. Contengono due terzi dei neuroni, capito, collegati al cervello. Quindi l'intelligenza del polpo è nei suoi tentacoli. È incredibile. Wow. Questo dice uno scienziato giapponese, quindi non è... No, no, l'Università di Okinawa. Okinawa, ragazzo, Okinawa, attenzione. Allora noi volevamo chiederti, tu come donna, rispetto a questa scoperta che il polpo ragiona con i tentacoli, tu come ti poni? Io come donna so per certo che il polpo va messo in freezer prima di essere cotto. Prima sì, prima sì. Ma questo va messo in freezer. Compresi con i tentacoli. Con i tentacoli e magari anche con i due neuroni a questo punto. Certo, che ci sono nei tentacoli. Va messo in freezer prima e poi dopo così si cuoce e rimane un po' morbido. Come lo fai tu in padella? Ah, lo puoi fare in padella, sì. A pentola a pressione. A pentola a pressione con i piselli, per esempio. Però... Un po' tipo calamaro. Tu come donna hai questo polpo. Come donna. Voi mi avete chiesto il parere come donna. No, 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 adesso senza... Quindi, quindi, ti siano vero. Vi ringrazio di questa possibilità. È un dovere, è un dovere. Sono ottimi, tra l'altro. A me piace molto il polpo. Anche polpo e patate. Come donna, eh? Come donna, lo dici. Come donna, con prezzemolo. È anche uno dei miei antipasti preferiti. Sì, come donna. Come donna non sei un po' presa dal senso di colpa. Come donna. Di mangiare questo polipo, questo tentacolo intelligente. Allora, come donna ti dico, a volte. A volte si vengono. A volte si, certo, quando stai al mare, al pranzo, a un bicchiere di vino, un po' meno. Un po' meno. Un po' meno. Come donna. Come donna. Sempre come donna. Radio 2